Luciano Mari, uno dei fedelissimi dei nostri tornei. Lucio, cosa ne pensi di questa organizzazione, di questo evento? Allora, innanzitutto l'evento continua ad andare avanti da tanto tempo. Si è iniziato a scaletta, come si dice, si è iniziato al basso, si è andato sempre verso l'alto. E da poco che eravamo, ecco qua, siamo tanti e sembra che va sempre tutto bene, tutto al meglio. Possiamo dire che questo è un po' l'apice finora della nostra organizzazione? Sì, sì, quello senza dubbio. Il posto è sicuramente, credo, il migliore che si possa avere. Eravamo già rimasti sorpresi dal precedente al vinile e questo fa la grande. Bene, aspettatevi del torneo? Divertisse.